La scalinata del Pincio a Bologna La scalinata del Pincio è un'opera scenografica e monumentale situata tra il Giardino della Montagnola e la Piazza XX Settembre a Bologna, in Emilia-Romagna. Fu inaugurato nel 1896 e prese nome dal Pincio di Roma, per celebrare Roma che da pochi anni era diventata capitale d'Italia. Il fronte principale è decorato da due bassorilievi, Bologna Docet di Arturo Colombarini e Bologna Libertas di Ettore Sabbioni. Al centro si trova una fontana, eseguita da Diego Sarti, 1859-1914, e Pietro Veronesi, su disegno di Muggia e Azzolini, rappresenta una ninfa salita da una piovra. Sul secondo fronte, che sostiene il Giardino, sono altri tre bassorilievi, con temi storici legati al luogo. Il ritorno dalla vittoria della Fossalta di Pietro Veronesi, la cacciata degli austriaci di Tullo Golfarelli, 1852-1928. Con la «Santa Canaglia», che si getta a corsa contro i fucili spianati dagli invasori della patria, e la distruzione della rocca di Galliera di Arturo Orsoni. In fondo al passaggio su via Galliera sarà costruito, tre anni dopo, il Palazzo Maccaferri, sede del Café Shantan Eden. La scalinata è corredata di 72 candelabri in ghisa a 6 o 4 lampioni.